Ciao a tutti e benvenuti al nostro video sui 10 marchi di abbigliamento italiani più famosi al mondo. L'Italia è famosa in tutto il mondo per la sua moda e i suoi design eleganti e sofisticati. In questo video, esploreremo i marchi di abbigliamento italiani più famosi al mondo, che hanno conquistato il cuore degli appassionati di moda in tutto il mondo. Dalle borse alle scarpe, dai vestiti ai profumi, questi marchi rappresentano il meglio dell'abbigliamento italiano. Siete pronti per scoprire quali sono i marchi di abbigliamento italiani più famosi al mondo? Allora, non perdete altro tempo e iniziamo subito. 1. Gucci. Gucci è uno dei marchi italiani di moda di lusso più famosi al mondo. Fondata nel 1921 a Firenze, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori di alta moda. Il marchio è noto per i suoi design innovativi e audaci, che spesso combinano elementi tradizionali con tocchi moderni. 2. Prada. Prada è un altro marchio italiano di moda di lusso noto in tutto il mondo. Fondata nel 1913 a Milano, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design minimalisti e sofisticati, che spesso presentano linee pulite e colori neutri. 3. Armani. Armani è un altro marchio italiano di moda di lusso noto in tutto il mondo. Fondata nel 1975 da Giorgio Armani, l'azienda produce abbigliamento, profumi, occhiali e orologi. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano linee pulite e colori neutri. 4. Versace. Versace è un altro marchio italiano di moda noto in tutto il mondo per i suoi design audaci e innovativi. Fondata nel 1978 a Milano, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design colorati e vivaci, che spesso presentano stampe audaci e dettagli decorativi. 5. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1985 a Legnano, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano stampe audaci e dettagli decorativi. 6. Fendi. Fendi è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1925 a Roma, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano pellicce e dettagli decorativi. 7. Valentino. Valentino è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1960 a Roma, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano linee pulite e colori neutri. 8. Salvatore Ferragamo è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1927 a Firenze, l'azienda produce abbigliamento, borse, scarpe e accessori. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano linee pulite e colori neutri. 9. Max Mara. Max Mara è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1951 a Reggio Emilia, l'azienda produce abbigliamento per donna. Il marchio è noto per i suoi design eleganti e sofisticati, che spesso presentano linee pulite e colori neutri. 10. Bottega Veneta. Bottega Veneta è un altro marchio italiano noto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità. Fondata nel 1966 a Vicenza, l'azienda produce abbigliamento, borse e accessori. Il marchio è noto per i suoi design minimalisti ed eleganti. E questo è tutto per il nostro video sui 10 marchi di abbigliamento italiani più famosi al mondo. L'Italia è famosa in tutto il mondo per la sua moda e i suoi design eleganti e sofisticati, e questi marchi rappresentano il meglio dell'abbigliamento italiano. Che tu stia cercando un nuovo paio di scarpe, una borsa elegante o un vestito alla moda, questi marchi hanno tutto ciò di cui hai bisogno per completare il tuo guardaroba. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di lasciare un like, commentare e iscrivervi al nostro canale per altri video interessanti. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.